16 gennaio 2019, mercoledì, bentornati su CiperTV. Inizieremo con un 3 set di 5 back squat, a seguire 15 minuti arm wrap con 30 double unders, 10 bar piece e 5 front squat. Ogni round dovremo naturalmente aumentare il carico, pesi, scalature e tutto il resto sulla grafica qui di fianco. Seguitici anche su Instagram, ci vediamo domani per un'altra classe di CiperTV. Buona giornata!